Tag Heuer Formula 1, l'orologio da polso che porta lo spirito delle corse al tuo polso. Il Tag Heuer Formula 1 è l'orologio da polso che incarna l'essenza delle corse automobilistiche in un elegante accessorio che unisce tecnologia e stile. Il suo design ispirato alle corse, le sue funzionalità avanzate e la sua connessione al mondo delle corse lo rendono un orologio unico, adatto a coloro che amano l'adrenalina della pista e lo stile distintivo. Il Tag Heuer Formula 1 nasce dalla collaborazione tra Tag Heuer, il marchio svizzero leader nel settore degli orologi di lusso, e la Formula 1, la massima competizione automobilistica a livello mondiale. Tag Heuer divenne sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1, Ferrari dal 1971, ed allora ha creato orologi dedicati ai piloti più famosi della storia delle corse. Il design della cassa, del quadrante e delle lancette sono progettati per richiamare il mondo sportivo delle corse. Il cinturino, disponibile in diversi materiali e colori, è studiato per offrire comfort e resistenza, oltre che per aggiungere un tocco di personalità al tuo look. All'interno del Formula 1 batte un movimento svizzero di alta qualità, che garantisce una misurazione precisa del tempo. Il movimento è protetto da una cassa robusta e impermeabile, che resiste agli urti e alla pressione dell'acqua fino a 200 metri di profondità. Il vetro zaffiro antigraffio e antiriflesso assicura una perfetta leggibilità del quadrante in ogni condizione di luce. Il Tag Heuer Formula 1 è dotato di diverse funzioni utili per chi ama le corse e lo sport in generale. Il cronografo permette di misurare il tempo trascorso in un determinato percorso, con una precisione di un decimo di secondo. Mentre i subquadranti supplementari indicano i minuti e le ore cronografiche. La data è visualizzata in una finestrella a ore 3, a ore 4 o a ore 6 a seconda della versione. La lunetta girevole, graduata in secondi, minuti o ore, consente di calcolare il tempo trascorso o rimanente. In alcune versioni del Formula 1 sulla ghiera è presente una scala tachimetrica, che permette di misurare la velocità media su una distanza percorsa. Il Tag Heuer Formula 1 è un orologio che ha fatto la storia e che continua a farla, grazie alla sua capacità di evolversi e di adattarsi ai cambiamenti della società e delle tendenze. È un orologio che esprime la tua personalità e il tuo stile, che ti fa sentire parte di un mondo esclusivo e affascinante, che ti fa vivere lo spirito delle corse al polso.